Tutto è cominciato lunedì scorso con la denuncia da parte dei residenti i quali hanno cominciato a percepire nell'area un acuto sentore di stallatico. I carabinieri forestali hanno così avviato le indagini, dalle analisi effettuate sui campioni prelevati nei fiumi Vomano e Tordino, grazie anche alla collaborazione di Artabruzzo, sono venuti fuori valori inquinanti molto elevati. Da un primo risultato analitico, come conferma il presidente di Artabruzzo Maurizio Dionisio, è stata riscontrata la presenza massiccia di Escherichia Coli, da 58.000 a 72.000 unità per 100 millilitri, batteri provenienti da contaminazione organica e fecale e miasmi tipici di reafluizzo tecnici, che di conseguenza hanno reso le acque torbite e con presenza di schiuma. In tre punti, Ponte per Varano e Conateramo e in località Venacuil a Montorio, sono stati riscontrati livelli anomali di ammoniaco, azoto totale, fosforo e COD, indicatore che determina la quantità di ossigeno necessaria per ossidare chimicamente le sostanze inquinanti. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi prelievi, ma la grande forza rigeneratrice della natura, prosegue Dionisio, ci mette a riparo dalle scellerate attività dell'uomo. Le aste fluviali a differenza dei laghi sono in continuo movimento e la velocità delle acque con ogni probabilità hanno già portato gli inquinanti a valle rispetto al luogo dove sono state riscontrate ed è molto credibile che nei prossimi giorni il fenomeno sia terminato. L'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine sugli sversamenti ora è fondamentale per evitare nuovi episodi spiacevoli in futuro. Mentre, conclude Dionisio, i laboratori lavoreranno per fornire gli esiti analitici sia per quanto concerne i campioni forniti dal corpo forestale dello Stato, sia per quanto riguarda le acque prelevate dal fiume Vomano destinate al consumo umano in ingresso al potabilizzatore.